Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare questo incantesimo del fulmine draconico di Pyke dirigetevi qui in questa zona dei ghiacci prendete quel vortice che vi porterà su questa collina e dovete entrare in questa galera una volta entrato in questa galera è molto semplice dovete uccidere una bestia quindi quella bestia una volta uccisa mi raccomando quella bestia usa anche le ampolle per curarsi ma ne userà solamente una sola io ho usato l'incantesimo e gli ho fatto già un botto di danno poi alla fine ho usato la spada ed è morto e in cambio vi darà un incantesimo e la sua armatura quindi l'armatura dell'impronte mi sembra non ricordo molto bene e quindi per usare questo incantesimo è molto semplice basta usare un sigillo qualsiasi sigillo quello che usate per sputare fuoco, ghiaccio oppure qualsiasi altra cosa e dall'altra parte invece usate un'arma che non ha nessuna magia quindi che non ha niente cioè io ad esempio ho usato una lancia e dall'altra parte invece ho usato il sigillo adesso vi faccio vedere cosa ho fatto ecco come potete vedere dall'altra parte ho messo una lancia dall'altra invece ho messo il sigillo e ho usato questo incantesimo ecco che cosa fa tutto qua però è anche un po' letale se potenzio un po' la lancia fa veramente anche un sacco di danno comunque niente grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo ragazzi lasciate like iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao